È una grande qualificazione, possiamo finire qua la domanda? No, abbiamo fatto un grande primo tempo con grande voglia di sderminazione, qualità e dopo il secondo è stata dura perché loro mettevano tanti cross e avevano più facilità nel giocare perché noi anche un pochino di stanchezza era avanzata, però è andata benissimo. Stanchezza, hai corso tantissimo, non metto soltanto i due assist che sono stati fondamentali questa sera ma la tua prestazione ti chiedo anche come ti senti fisicamente perché sta dimostrando grande brillantezza. No, non dico niente, è andata bene, basta questo. Allora non ti chiedo la tua personale, ti chiedo quella della squadra perché c'è grande sforzo, c'è sempre grande spirito di sacrificio. Sì, fa parte di questo gruppo, fa parte di chi gioca dall'inizio, fa parte di chi entra che dà una grossa mano, dobbiamo continuare.